Il 31 dicembre scadrà il decreto che dispone l'obbligo di etichettatura sull'origine di alcuni prodotti alimentari. Coldiretti lancia l'allarme, si rischia l'invasione di prodotti di bassa qualità spacciati per Made in Italy. Si temono quindi ripercussioni anche sul mondo dell'indotto agroalimentare del nostro territorio. Sì, questo è una delle nostre battaglie storiche ed importanti. Noi abbiamo bisogno di individuare su tutti i prodotti una trasparenza a garanzia di chi consuma e quindi dei consumatori e dei cittadini. Quindi l'idea di creare per tutti i prodotti a livello nazionale, non solo ma anche a livello comunitario, un obbligo di indicare la provenienza della materia prima sul prodotto è per noi strategico e fondamentale. C'è bisogno ovviamente anche di dare continuità a queste norme che per esempio mettevano l'obbligo dell'indicazione della provenienza del grano sulla nostra pasta a grano duro e credo che questo vada trovato la soluzione per dare continuità anche a questo tipo di attività che si unisce a quelle che sono delle certificazioni storiche come quelle per esempio delle DOP e degli EGT dove è obbligatorio ovviamente per disciplinare utilizzare prodotti del territorio così come altre invece produzioni che hanno avuto l'obbligatorietà che non scade a partire dalla carne bovina alla carne di altri animali. Però noi dobbiamo arrivare ad avere la totalità del prodotto finito del lavoro alimentare che certifichi, che dia la certezza ai consumatori di cosa stanno comprando e da dove arrivano i prodotti di base, quelli agricoli, dal pomodoro alla carne ai cereali. Dovremmo creare le condizioni perché tutto questo sia in assoluta trasparenza. A preoccupare col diretti non è solo la mancanza di certificazione di tanti prodotti alimentari ma la crescente spinta dell'Unione Europea alla produzione, distribuzione e consumo di prodotti sintetici creati in laboratorio. Un problema che è legato ad un investimento importante che stanno facendo alcune grosse, ormai direi multinazionali ancorché non dell'agroalimentare in cui si cerca di valorizzare o di sostenere anche a livello comunitario e di questo noi siamo fortemente contrari, la carne sintetica, quella non proveniente da allevamenti, quella che si fa in laboratorio. Io credo che questo sia un grosso errore da parte dell'Unione Europea e vorrei sottolineare anche il fatto che questo tipo di attività in realtà va in una direzione che non è ambientalmente interessante rispetto alla tutela ma va in una logica di creare anche su ciò che si mangia un monopolio da parte di pochi. Questo è molto pericoloso perché rischiamo di creare una situazione in cui miliardi di persone debbano mangiare cose che si fanno in laboratorio e solo pochi potranno poi permettersi invece di poter mangiare in modo tradizionale e di qualità. Credo che questo sia un grande problema, una grande battaglia e Coldiretti deve intestarsi e continuare a portare avanti perché il pericolo da questo punto di vista sta diventando abbastanza grande. Soprattutto in questo periodo dove sembra che anche i prezzi alimentari, in special modo nei supermercati, insomma i carrelli sono sempre più vuoti e i prezzi sono sempre più alti. Sì, questo è un problema, è un problema molto serio che sta vivendo il mondo della produzione agricola in maniera particolare, in maniera seria ed importante perché è aumentato tutto, dal carburante all'energia elettrica alle concimazioni. C'è un aumento sconsiderato di tutte le produzioni a fronte delle quali almeno nella parte di valore del settore agricolo non si assiste invece ad un aumento dei prezzi per cui ovviamente stiamo lavorando sotto i costi di produzione. A questo devo dire che speriamo che possa darci una mano in maniera importante ciò che è stato appena varato dal Consiglio dei Ministri come decreto legislativo che è alla firma del Presidente della Repubblica dove si parla di pratiche sleali sotto l'aspetto delle scorrette pratiche di commercializzazione dell'agroalimentare e dove sarà sancito in modo chiaro che non è possibile acquistare prodotti sotto i costi di produzione da parte del mondo della seconda e terza fase verso il mondo dell'agricoltura. Grazie.